Un programma in collaborazione con Midi, la perla nera camp Italia 1 ti accompagna fino al calcio d'inizio dei campionati mondiali con una rassegna settimanale sui protagonisti di Italia 90 i colori, i suoni, le emozioni della festa più grande Viva il mondiale! Ogni giovedì alle 23.15 su Italia 1 C'è un modo diverso di fare informazioni non con il rumore ma con la scrittura Chorus, tra tante urla, una voce Holsmento Liptus è la caramella che sprigiona i vapori balsamici Holsmento Liptus Originale o extraforte Un sospiro di sollievo Carta American Express Il privilegio di un servizio unico In una parola, titolare Un servizio che vi segue ovunque Attraverso 2.800.000 esercizi selezionati In tutto il mondo Che assicura praticamente ogni vostro acquisto Controperdita Furto O danno Un servizio che non vi pone alcun limite di spesa prefissato Carta American Express Chi è titolare? Ha i suoi privilegi Richiedetela subito Pasta! Alle diete crudeli Se vuoi restare in linea si sa Snelli impasti Spaghetti e rigantoni son buoni Buoni, buoni Al natural Con le fibre vegetali che ha Snelli impasti Assorbi meno zuccheri grassi Oh 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 Snelli impasti E' ora di dire pasta alle diete crudeli In farmacia Snelli impasti Snelli impasti